In questo video un messaggio dall'universo per te! Vediamo cosa ha in mente l'universo per te. Un messaggio esatto dall'universo per te. Scegli una carta. Allora, quello che andiamo a vedere, prima di affrontare il tema però, iscriviti a tutti i miei canali YouTube, ovviamente, seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su TikTok, e anche i miei due nuovissimi canali YouTube, ovviamente, Sedurre un uomo, cioè Sedurre un uomo con Massimo Tramasco, Fallo innamorare! E il nuovo canale, invece, Sedurre le donne con Massimo Tramasco. Canali appena nati, iscriviti a entrambi e andiamo avanti, andiamo avanti e vediamo, quindi, qual è un messaggio dell'universo per te. Utilizzerò i tarocchi Zen di Osho, i tarocchi di Marsiglia, i tarocchi del Transurfing. Quello che ti chiedo soltanto è di restare, diciamo, in una posizione di neutralità, metterti in una posizione di neutralità e andiamo a vedere, andiamo a vedere, e devi ovviamente fare una scelta tra il Buddha, il Buddha, la piramide, la piramide, Buddha, piramide e la stele. Quindi, devi scegliere tra questi tre simboli e andiamo a vedere quali saranno le novità fantastiche dell'universo per te. Cosa l'universo ti riserva? Quali sono le cose che l'universo ti riserverà? Buddha, piramide o stele? Buddha, piramide o stele? Quali sono le cose fantastiche o meno, diciamo, questo non lo sappiamo, che l'universo si riserva per te. Buddha, piramide o stele? Cerchiamo di capire quali sono le cose che l'universo riserva per te. Ovviamente, quindi, partiamo dal Buddha, perché ho scelto il Buddha. Mi raccomando, metti in una posizione di relax, libera la mente, per sfruttare la sincronicità che proviene dai tarocchi. vediamo il tuo messaggio esatto dall'universo. Scegli una carta. Il tuo messaggio esatto dall'universo. Scegli una carta. Il tuo messaggio esatto dall'universo. Scegli una carta. Intanto ti ricordo di fare donazione al canale. Fai qualche donazione al canale, così dai un contributo a far crescere. Fai tranquillamente donazioni, che sono ben accette, ovviamente. Allora, andiamo a vedere, quindi, mentre tu fai donazioni al canale, per chi ha scelto il Buddha, il tuo messaggio dall'universo per te. Vediamo chi dice l'universo. Bene, la prima carta è interessante. La prima carta è interessante e riguarda una possibile apertura. Quindi, se tu hai un problema, ti stai dicendo l'universo, che c'è una possibile soluzione per te. C'è un'apertura. Pensa, se tu hai un problema, se tu hai qualcosa, perché c'è il tuo Buddha, si intravede una soluzione. Si intravede la possibilità di andare avanti. E nel frattempo, fai donazioni al canale e seguimi su Instagram. Ecco, un altro suggerimento dall'universo, non ti aggrappare al passato. Lascia perdere! Se c'hai qualcuno che volevi riconquistare, lascia perdere. Non ti devi aggrappare al passato. Se avevi un interesse per una relazione del passato, è chiusa. È chiusa completamente. Non devi tenere presente che non si potrà riaprire. Vecchia carampana di una malgasciona. Fai donazioni e non rompere i maroni. Vecchia carampana di una malgasciona. Quindi andiamo avanti. Purtroppo devi fare attenzione perché è meglio dover attraversare un periodo di solitudine. È un periodo di solitudine che ti capiterà, ma non devi spaventarti per la solitudine. Perché è meglio da sola o da solo che con qualche coglione. perché è pieno è pieno diciamo di è pieno di di coglioni non soltanto nel web non soltanto di quelli che scrivono su TikTok ma è proprio il mondo è pieno di coglioni. Però c'è un qualcosa di interessante che ci siamo in 8 miliardi. Quindi tra 8 miliardi basta che scarti i coglioni e ti capiteranno gli altri. Quindi questo per quanto riguarda il tarocchi del transurfing. quindi un'apertura e risoluziona un problema non aggrapparti al passato e e vivi tranquillamente un periodo di solitudine. Meglio stare da soli che meglio stare da soli che assieme a qualche minchiona qualche coglione. Molto meglio stare da soli. Vediamo cosa ci dicono i tarocchi di Marsiglia che ricordo sono tra i tarocchi più antichi del della tarologia francese utilizzati anche da Carl Gustav Jung e utilizzati anche da come possiamo dire Jodorowsky e vediamo e vediamo che ci dicono i tarocchi di Marsiglia. La domanda è sempre il tuo messaggio esatto dall'universo ed è sempre perché ha scelto il Buddha perché ha scelto il Buddha. allora vediamo qual è il tuo messaggio dall'universo per te. Beh e qua viene fuori anche questa ci sarà una situazione ambigua perché tu purtroppo ti vai a mettere sempre in relazioni di merda ti vai a mettere sempre in relazioni di merda e quindi la storia che andrai è la luna ambigua quindi potrebbe essere con una persona impegnata con una persona sposata con una persona oppure anche con una persona che come dire magari te la sei sposata tu e ti lascia diciamo e ti lascia ti fa le corna oppure non ti insomma è un po' ambigo ti nasconde delle cose teniamo presente che poi tra l'altro i tradimenti principali non sono quelli sessuali perché molte malgascione si lamentano del tradimento sessuale ma il vero tradimento è il tradimento diciamo di natura il vero tradimento è il tradimento di natura finanziaria il tradimento di natura sessuale oramai non gliene frega più niente a nessuno è normale che ci sia diciamoci la verità l'essere umano non è monogamo è poligamo naturalmente poligamo quindi è inutile che andate a cercare se avete le corna o se non ce l'avete ce l'avete di sicuro le corna se siete sposati siete cornuti cioè sposati uguale cornuti al 100% ma le vere corna non sono quelle diciamo sessuali le vere corna sono quelle di natura finanziaria se uno ti fotte i soldi se uno fa debiti queste sono le vere corna perché non servono i tarocchi per capire se sei cornuto fisicamente sessualmente se sei sposato o sposata sei cornuta e allora vediamo un attimino ecco l'universo ti sta dicendo che ci sono delle situazioni un po' spinose che dovrai affrontare anche situazioni un po' spinose che dovrai affrontare vivrai comunque una storia d'amore è una storia d'amore con un cavaliere che non è diciamo un re ma la storia d'amore sarà un po' immatura sarà un po' diciamo però sarà una storia d'amore quindi questo è il messaggio dell'universo e adesso andiamo ad approfondire la tematica con i tarocchi del transurfing che sfruttano utilizzano la sincronicità utilizzano la sincronicità della fisica quantistica grazie a Silvana utilizzano la sincronicità della fisica quantistica e vediamo il tuo messaggio esatto dall'universo cosa ti riserva l'universo il tuo messaggio esatto dall'universo che cosa ti riserva l'universo allora vecchia carampana allora avrai degli alleati cioè ci saranno delle persone che ti potranno aiutare a risolvere una questione a risolvere un problema e questo è molto importante devi avere fede devi avere fede anche avere una vita spirituale avere una vita spirituale è molto molto importante e poi butta giù le maschere che hai stai vivendo con delle maschere che è il momento di abbattere ecco queste sono più o meno le cose il messaggio dell'universo per chi ha scelto per chi ha scelto la stella grazie a Francesca intanto fate donazioni al canale così dato un supporto al canale fate donazioni vecchia malgascione carampane seguitemi ovviamente su tiktok su instagram massimo terramasco ufficiale e su tutti i miei canali youtube che adesso sono diventati otto perché oggi anzi ieri è nato un nuovissimo canale fallo innamorare con massimo terramasco ma 20 giorni fa è nato il canale sedure le donne con massimo terramasco iscrivetevi a tutti ovviamente a tutti e otto e allora passiamo alla piramide chi ha scelto la piramide passiamo alla piramide chi ha scelto la piramide e seguitemi anche su instagram massimo terramasco ufficiale allora passiamo alla piramide vediamo un attimino la piramide allora il messaggio dell'universo avrai un amante avrai un amante o se ce l'hai consoliderai la relazione con l'amante comunque un amante chi è un amante è uno col quale non si hanno impegni cioè non è detto che un amante debba essere soltanto nell'ambito di una relazione matrimoniale o sposati tu puoi anche essere singolo e avere un amante amante è colui che con cui si fa sesso fondamentalmente o comunque si condividono anche delle cose ma non si condividono degli impegni quindi ognuno per i cazzi suoi che poi tra l'altro è anche la condizione migliore diciamoci la verità perché gli impegni sono sempre rotture di coglioni nelle relazioni sentimentali affettive è bello viversi anche l'intimità è bello viversi anche la sessualità ma senza impegno senza impegno vuol dire che cazzo convivenze rotture di coglioni vari e quindi qua secondo me è una carta fortunata per quanto riguarda questo acquisirai anche una consapevolezza non capisco perché le donne vogliono sempre avere degli impegni 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 ma lasciate perdere vivetevi godetevi la vita quindi ci sarà consapevolezza e devi liberarti da alcuni condizionamenti probabilmente per far l'amante tu hai qualche condizionamento di cui devi comunque in qualche modo liberarti perché i condizionamenti non sono mai non sono mai utili non sono mai interessanti quindi liberati dai condizionamenti fai attenzione a giochi politici magari anche nell'ambiente del lavoro ci sarà qualcuno che te lo vuole mettere in quel posto fai attenzione vediamo cosa ci dicono i tarocchi di Marsiglia che ricordo sono i tarocchi più antichi della tarologia francese seguiti anche da utilizzati anche da Carl Gustav Jung l'ideatore della psicologia analitica grazie Mary e anche da diciamo Jodorowsky mentre invece fate donazioni fate donazioni così detto un supporto allora sì ecco viene fuori diciamo il 4 il 4 di bastoni che è proprio la carta diciamo della sessualità quindi il messaggio dell'universo è per te non ci saranno storie di impegni non ci saranno storie impegnate ma ci sarà una storia diciamo da amante da amante ma non è negativa la storia d'amante ricordo che quindi non è l'amante è soltanto quello con una donna o con un uomo sposato tu puoi avere un amante con uno single tranquillamente cioè potete essere amanti con uno single basta che avete una relazione diciamo dove c'è la passionalità e c'è un'intimità affettiva ma non ci sono impegni è quello che viene chiamato anche amore romantico fondamentalmente ma senza impegno senza impegno cosa vuol dire che non c'è un progetto di vita assieme non c'è un progetto di andare a convivere non c'è un progetto di sposarsi men che meno quindi è veramente un amore più bello più puro senza rottura di coglioni perché poi se una persona è realizzata economicamente è realizzata da tutti i punti di vista non ha necessità di prendere impegni con una persona vediamo anche se poi la storia può andare avanti nel tempo cioè non è detto che debba finire ma ognuno per i fatti suoi senza senza vincoli reciproci no? allora bene qua continua sulla proprio il cavaliere di bastoni che è proprio una funzione il cavaliere di bastoni è proprio qua il simbolo della relazione passionale il simbolo della relazione passionale quindi questo è quello che riguarda chi ha scelto la piramide vediamo ancora con i tarocchi zen di Osho ma gli amori i romantici sono i migliori e poi grazie a Silvana sono i migliori perché cioè chi si sposa oggi deve essere proprio un fesso conclamato diciamoci la verità oggi chi si sposa è proprio un fesso conclamato ma anche ieri cioè allora vediamo un attimino cosa ci dicono i tarocchi zen beh ci sarà un verdetto ci sarà una sentenza se tu aspetti una sentenza aspetti un verdetto ci sarà un verdetto una sentenza insomma non dice però di che com'è beh qua viene un messaggio sulla condivisione della spiritualità cerca di condividerti la spiritualità nel modo migliore quindi questo è il messaggio che proviene dall'universo il tuo messaggio esatto dall'universo e adesso veniamo a chi ha scelto la stele vediamo chi ha scelto la stele vediamo chi ha scelto la stele è sempre il tuo messaggio esatto dall'universo scegli una carta allora vediamo il tuo messaggio esatto dall'universo scegli una carta tenete presente che il mondo è pieno di coglioni quindi cercate di liberarvi dai coglioni allora beh ti sta dicendo che dal tuo punto di vista è importante l'amicizia e si svilupperà una nuova relazione di amicizia amicizia e amore hanno la stessa radice per cui è anche interessante se tu pensavi una storia d'amore devi rimandare non è il momento per avere una storia d'amore ma soltanto una storia legata all'amicizia che è comunque qualcosa di molto interessante attenzione attenzione perché potresti attraversare alcune difficoltà finanziarie quindi non è detto che capitino ma ti sta dicendo i tarocchi che ci potrebbero essere delle difficoltà finanziarie e quindi fai attenzione al conquibus perché poi diciamoci la verità l'amore passa ma quello che conta veramente sono i soldi poi mica l'amore l'amore fa parte della vita diciamo vediamo cosa ci dicono i tarocchi i tarocchi zen i tarocchi di Marsiglia scusate vediamo che ci dicono i tarocchi di Marsiglia e beh qua viene fuori proprio l'innamorato quindi passata questa amicizia ecco però l'innamorato vedete che ci sono tre persone ci sono tre persone che significa che ci sarà una triade perché in queste carte dei tarocchi di Marsiglia l'innamorato è formato da tre persone quindi ci sarà vivrai una storia dove ci sarà un ex un antagonista insomma e quindi il suggerimento è non innamorarti anche se vi è una carta di innamorato perché se ti innamori rischi se ti innamori rischi di avere diciamo problemi poi da quel punto di vista lì quindi evita di innamorarti avrai comunque una stabilità economica finanziaria al 5 non è che diventerai ricco o ricca ma comunque diciamo ringrazio Luna ma comunque ci sarà una sorta di stabilità da questo punto di vista che ti porterà sicuramente dei benefici nel frattempo fai donazioni al canale fai donazioni così dai un sostegno bene quindi viene anche la carta dell'imperatrice quindi alla fine supererai anche la miseria quella situazione di miseria che ti è capitata verrà superata ampiamente quindi da questo punto di vista puoi stare tranquilla o tranquillo perché situazioni negative verranno tranquillamente superate e questo direi che è una cosa buona e giusta per te vediamo alcune indicazioni ancora provenienti dai tarocchi del transurfing cosa ci dico in tarocchi del transurfing allora beh avrai un sogno da portare avanti l'universo ti darà volentieri un sogno da portare avanti e fai attenzione perché potrebbe riservarti vedete questa è una carta un po' particolare delle insoddisfazioni però diciamo che i sogni vanno sempre perseguiti in piena libertà beh sì qua è una carta interessante questo è un po' il mistero quindi la vita di fatto è un mistero ci saranno degli imprevisti delle cose che non sono ancora definite dall'universo ma che ti capiteranno bene questa è per quanto riguarda chi ha scelto la stesa della stele quindi detto questo seguimi su instagram massimo terramasco ufficiale su tiktok e su tutti i miei canali youtube che sono diventati otto perché è nato uno oggi un nuovo figlio l'ottavo figlio quindi e anche però ce n'è uno di venti giorni fa sono quasi gemelli quasi un parto gemellare uno per sedurre le donne uno per sedurre gli uomini per far innamorare gli uomini bene per questo video è tutto quindi seguimi su instagram massimo terramasco ufficiale su